Oggi siamo qui all'Università Luke per partecipare a un progetto. Abbiamo scelto di progettare e costruire un multispezia, che è un attrezzo da cucina che può contenere fino a 6 diversi tipi di spezie e attraverso un apposito coperchio scorrevole è possibile selezionare la spezia e poi utilizzarla per condire i nostri cibi. Per costruire il progetto abbiamo utilizzato un programma chiamato 123D Design e la giornata si è divisa in due parti. Nella prima abbiamo guardato la parte teorica relativa alle stampanti 3D, mentre nella seconda, che è la parte più interattiva, siamo riusciti a disegnare, come già detto, il nostro oggetto. Allora, oggi abbiamo finito di progettare, anzi, abbiamo finito di stampare il nostro prodotto, abbiamo controllato la qualità, abbiamo controllato se effettivamente può funzionare, abbiamo finito di, stiamo finendo di fissare il piano del marketing e poi andremo quindi a concludere tutto il nostro progetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.